Alle 18 comincia il giudizio universale Sì vous plé, qu'est-ce qu'il a dit? A 18h comincia il giudizio dernier A 6th afternoon begin the last judgment Un 6th hour begin the young saint Gericht Ça doit être de la pubblicité Alle 18 comincia il giudizio universale Alle 18 comincia il giudizio universale A 6th afternoon begin the last judgment Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.